C'è l'errore per Orsenico Park prima dello stacco, macchina che va per lasciare i concorrenti con all'esterno Nemesirab che prova ad assumere il comando ma rientra Nicolix e così Nicolix sfila sulla prima curva in testa nei confronti di Nemesirab che si accoda. Ora viene per linea esterna il numero 3 di Oliver Wise che va a chiedere strada a Nicolix, così 400 in 32, squalifica per numero 1 di Orly e ora davanti alle tribune Oliver Wise che conduce nei confronti di Nicolix quindi ancora Nemesirab a precedere il numero 13 di Oliver Wise. Si va così lungo la seconda curva 44 e 4 e passaggio ai 600 da parte di Oliver Wise che continua a condurre mentre il gruppo è in fila indiana 1-1 e 3. Il parziale agli 800 metri con i due del team di Vincenzo a comandare prova a scoprirsi Nemesirab che va in leggero anticipo sul tentativo di risalita da parte di Orocaf 1-16 e mezzo. Il passaggio al chilometro da parte di Nemesirab che continua a condurre, c'è l'errore per Olandiera con i tre quarti di miglio passati in 1-36. Da parte di Nemesirab con adesso Orocaf che si porta per linea esterna e va all'attacco dei due di testa, rimane alla corda per ora Nicolix, Nemesirab che conduce, Nicolix che trova la luce e prova a venire anche Orocaf. Ma Nemesirab che ha guadagnato tre di margine, Nemesirab che nel finale deve solamente gestire Nemesirab che viene a condurre nei confronti di Orocaf e poi Overcraft Gar 1-59-8 il parziale dei 1600 metri.